Inquadriamo il contesto in due parole, stiamo parlando di data governance e stiamo parlando in particolare di due architetture proponibili a livello di soluzioni all'interno del data governance e quindi sono diverse tra di loro, il data mesh ha un approccio molto più orientato al business e quindi ciò significa poter creare e avere i dati più vicini alle persone che poi effettivamente sanno cosa farne e quindi sostanzialmente decentrare i dati, distribuirli e fare in modo che poi i vari utenti possano generare dei prodotti su questi dati che hanno a disposizione prodotti significa sostanzialmente delle viste, cioè dei dati che permettono di essere integrati e poter essere interrogati per portare i risultati attesi è chiaro che tutto questo deve essere governato anche a livello di sicurezza per cui io che sono proprietario di un dominio di questi dati devo fare in modo che non siano visibili a tutti in azienda l'approccio invece del data fabric è molto più orientato alla tecnologia è più un processo che parte dal basso e che ha come alimentatore principalmente i metadati io quindi raccolgo le informazioni su questi metadati, l'intelligenza artificiale li elabora e identifica quali sono i trend, quali sono i dati più richiesti all'interno del sistema in modo da generare queste viste e questi prodotti e darli in pasto agli end user è importante che però tenere presente una cosa, che il data mesh è più semplice come architettura da implementare nello stesso tempo però bisogna stare attenti che la tecnologia è una parte molto importante anche per il data mesh non può essere avulso dalla tecnologia altrimenti si rischia di fare semplicemente un discorso legato a una implementazione di data governance che rimane sulla carta e basta e per questo serve una piattaforma di integrazione dati bene mi aggancio proprio a quello che stavo dicendo prima la cosa fondamentale è avere una piattaforma di integrazione dati di data management e di data delivery ciò significa essere in grado di poter utilizzare questa piattaforma per accedere ai dati e in denodo in particolare questa piattaforma l'ha basata sul concetto della data virtualization data virtualization significa accedere ai dati in una maniera logica non più fisica e quindi evitare tutte quelle procedure e tutta quella complessità che in questo momento esiste all'interno del sistema banca e in generale delle aziende per reperire i dati perché tutti i dati poi sono soggetti a delle trasformazioni ETL e vengono replicati l'approccio che prevede Denodo con la virtualizzazione è proprio evitare le repliche e accedere ai dati direttamente dove essi sono sui sorgenti dove vengono realizzati e questo ci permette di creare poi l'integrazione dei dati a livello logico e successivamente poter dare degli strumenti agli end user per poter interrocare questi dati in maniera molto semplice attraverso degli strati semantici che vengono realizzati leggendo proprio i metadati la virtualizzazione legge i metadati ed è il concetto esattamente di cui parlavamo prima con il Data Fabric il problema nel tempo reale non è solo legato ai dati comportamentali ci sono tante applicazioni in banca che hanno necessità di avere dei dati in maniera estemporanea subito nel tempo reale basti pensare alla gestione dei claim oppure alla parte di risk management il concetto rimane lo stesso se io evito di replicare i dati evito quello che viene detto il tempo di latenza ciò significa che ogni volta che vado a replicare questi dati mi porto con me dietro un momento nel quale vado a fare un'immagine ad esempio in un Data Warehouse di quelli che sono i dati che io vado a interrogare quindi avrò rispetto alla situazione reale dei sistemi operazionali una situazione sfasata l'approccio seguito dalla Data Virtualization che invece evita la replica dei dati e li va a prendere direttamente dalla sorgente nel momento in cui si scatena la query mi permette di avere questa informazione in tempo reale e quindi risponde sia a questa tematica qua ma a tante altre dove i dati in tempo reale sono necessari assolutamente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti